buongiorno a tutti e bentornati sul canale youtube di meplo oggi ci occupiamo di nuovo del tema dell'intelligenza artificiale che è sicuramente uno dei più caldi al momento anche sulla scia dell'approvazione dell'ai act da parte dell'unione europea oggi parliamo di un tema molto dibattuto cioè il rapporto tra proprietà industriale e proprietà intellettuale e intelligenza artificiale come sapete i modelli di intelligenza artificiale richiedono un'enorme quantità di dati su cui essere addestrati cioè digeriti da un certo punto di vista dal sistema per arrivare poi a ottenere dei risultati degli output basati su quel tipo di dati bene finora tante società del settore a cominciare da open ai famosa per chat gpt dolly e sora però ora le società hanno avuto un approccio molto veloce molto disruptive si potrebbe dire hanno agito e hanno messo in secondo piano da un certo punto di vista la tutela della proprietà intellettuale di chi poi quei materiali effettivamente li andava a fornire ma non è più così ormai il settore sta maturando ad una velocità tale che gli sviluppi sono quasi quotidiani quindi ha fatto scalpore qualche tempo fa la causa intentata dal new york times contro open ai proprio perché secondo il celebre quotidiano americano la società avrebbe utilizzato materiali protetti dal diritto d'autore per addestrare i propri i sistemi bene ovviamente il risultato l'esito della causa ancora ancora non è noto siamo ancora all'inizio però qualcosa si sta già muovendo nel senso che sembra da indiscrezioni riportate dagli organi di stampa che la stessa open ai stia lavorando a degli accordi dei contratti con grandi agenzie di stampa come afp per creare delle collaborazioni di modo da poter utilizzare i contenuti che sarebbero e sono protetti dal diritto d'autore però pagando un'equa licenza un epo canone di modo da retribuire giustamente chi quei contenuti li ha creati anche perché in un mondo che va sempre di più verso i contenuti generati dall'ia e quindi con un apporto umano limitato o comunque inferiore a quello che poteva essere fino al fino a poco tempo fa è assolutamente importante che l'ia venga addestrata con dei contenuti che contengono informazioni corrette verificabili anche perché il rischio altrimenti è quello delle famose allucinazioni cioè che l'ia addestrata su dei materiali scadenti dia dei risultati e degli output altrettanto scadenti dopo tutto si tratta di un procedimento di causa ed effetto da questo punto di vista bene questa storia ci ci spiega ci fa capire come l'impatto dell'ia su tutti i settori dell'economia sta per arrivare si sta già sentendo però non si può ignorare ignorare e non deve essere ignorato per un corretto e sicuro sviluppo di questo settore quello che già c'è cioè i diritti che già ci sono e le titolarità in capo alle persone che quei diritti fanno valere quei diritti detengono quindi è assolutamente fondamentale se si vuole far partire un progetto in questo tema rendersi conto che non si possono prendere dati alla rinfusa o da dove noi preferiamo senza preoccuparsi poi delle conseguenze che la presa di questi dati potrebbe avere se le conseguenze ripeto si fanno sentire persino per open ai società che è al top del settore e che è sicuramente una delle pioniere in quest'ambito a maggior ragione dovrebbero stare molto attenti anche tutti i suoi concorrenti o futuri tali se avete bisogno di consulenze in quest'ambito il nostro team sta sviluppando una grande competenza e progettualità per assistervi in tutte le fasi della vostra creazione d'impresa rimanete connessi e al prossimo video